salve a tutti amici benvenuti in questo nuovo video video consueto mensile un po' in ritardo scusate riguardante il appunto video acquisti del mese di luglio 2022 un po' in ritardo non per causa mia ma per causa della panini o meglio della panini che manda i fumetti al panini store di bologna che non so per quale motivo ci sono dei problemi a livello gestionale praticamente tutti gli ordini che ho fatto non risultano in casella il poveretto il commesso del panini store dispiaciutissimo praticamente non ha ricevuto nulla di quello che avevo ordinato sono andato a ordinare adesso anche altra roba che però sinceramente non so se mi arriverà mai quindi sto pensando di ordinarla direttamente dal sito della panini comunque tant'è speriamo che la questione si risolva presto bando alle ciance ovviamente dopo la sigla vedremo questo ben di dio ragazzi come al solito non dico che ho esagerato ma ma quasi questo mese eccoci qui dunque a parlare di questo video acquisti del mese di luglio 2022 mostrandovi appunto quello che ho acquistato sto utilizzando dei settaggi un po' diversi infatti sto andando a 30 fps ragazzi giusto per vedere se il video diventa molto più leggero ma comunque spero che non perda di qualità anche perché ho sempre utilizzato i settaggi a 60 fps però per un video acquisti video vlog diciamo interni non so se ne valga la pena però fatemi sapere voi la differenza se è peggiorativa migliorativa e poi ho utilizzato anche un'altra videocamera vecchia per fare il video intro che è una vecchia action cam della sony sicuramente avrà un effetto abbastanza spiacevole però volevo giusto testarla al volo per vedere se funziona ancora perché un action cam del 2016 ma bando alle ciance mi mostro subito allora quello che ho acquistato mese di luglio partiamo con i classici topolini vediamo per l'appunto che abbiamo anche le due cover relative al numero 3476 ebbene se mi hanno un po' fregato ragazzi li ho acquistate qui abbiamo il paperinic numero 67 nulla di che su questo paperinic ma parleremo meglio del numero successivo e penso che ci farò un video dedicato quindi restate sintonizzati perché sul numero 68 vi è una pubblicazione inedita di una storia di paperinic disegnata da pastrovicchio adesso non mi ricordo scritta da chi ma sempre da un autore italiano che però è uscita all'estero ve ne parlerò sicuramente poi abbiamo paper novela le più belle storie di silvia ziche 14 euro e 90 però cartonato io veramente possiedo già il rarissimo volume paper novela topo colossal arrivato a prezzi folli però mi dispiace leggerlo anche perché ha la vecchia brossura quella un po' bruttarella e quindi ho deciso comunque di acquistare questa versione chissà se un domani possa decidere di vendere la vecchia per tenermi questa però l'ho voluta prendere ugualmente copia autografata da silvia ziche per chi la preordinava ma anche per chi non la preordinava infatti siccome come vi ho spiegato nell'intro del video ci sono state delle problematiche alla fumetteria panini store di bologna dove io mi servo questa era una copia arrivata così normalmente quindi non quella prenotata da me però comunque possiede l'autografo e il negoziante insomma il commesso me l'ha data anche perché non mi è arrivata la mia almeno mi ha dato questa poi abbiamo un paio di acquisti che ho fatto in vacanza giù in puglia topolino in giallo è l'unica versione che ho e topolino 40 e topolino scusate zio paperone numero 49 perché mi piaceva la cover sinceramente poi è anche il numero precedente al 50 e ho voluto acquistarla ragazzi poi abbiamo l'immancabile grandi classici numero 79 l'unica testata serie come potete ben vedere ragazzi in realtà no ce ne sono anche altre adesso c'è l'almanacco topolino che è molto bello e poi proseguiamo con il club dei supereroi numero 7 con questa bella copertina con jose bat o bat carioca per dir si voglia e paper bat una testata che continuano ad acquistare perché merita davvero e poi voglio farvi vedere solo l'allegato del pk special robot che veramente ho acquistato giù in puglia e avevo anche ordinato in fumetteria solo che appunto in fumetteria non mi è ancora arrivato vediamo che abbiamo le piccole strip qui sul retro e abbiamo una bellissima cover poster presa direttamente da pk fuori serie obsidian adesso non si vedrà molto bene che dire ragazzi questo è il pk robot uscito nel 2015 appunto dedicato alle storie di pk uscite sul topolino davvero molto ma molto carino poi il numero dei classici speciali misteri fantomius cioè presto arriverà un video dedicato a questo volume infatti non è numerato non avete le allucinazioni sono due copie ragazzi perché una copia mi arrivò in fumetteria prima del problema degli ordini delle prenotazioni e l'altra l'ho presa in edicola e potete vedere la differenza ovvero che scusate oriento così perché c'è il muro davanti che la copia arrivata in fumetteria arrivata in tempo costava 4 euro e 70 mentre la copia arrivata in edicola più di due settimane dopo perché praticamente arrivò in fumetteria edicola poi è stata ritirata per riprezzarla ragazzi il prezzo giusto è quello di 6 euro e 50 perché comunque il volume molto spesso più del normale numero imperdibile ragazzi per gli appassionati di fantomius e anche per i collezionisti perché prevedo che come per il fu numero 3 di fantomius anche questo diventerà raro ma vedete bene il mio video a riguardo che uscirà penso prossima settimana e guarderete anche il motivo per cui insomma questo numero abbastanza raro poi proseguiamo con topolino neon edition dedicato a giorgio cavazzano grandi autori giorgio cavazzano come autore completo ragazzi 8 euro aumento di prezzo rispetto ai 7 euro e 90 precedenti comunque davvero molto ma molto bello poi abbiamo vabbè non c'entra niente con i fumetti il libro di romanzo assassin grid valala la spada del cavallo bianco sto collezionando tutti i libri di assassin grid quindi l'ho preso poi un bel malloppone che non entrerà sicuramente in inquadratura paperino e ritorno di rebo e altre storie con solo il volume appunto del ritorno di rebo perché l'altro lo possiedo già ovvero il razzo interplane planetario eccolo qui e quindi ho voluto acquistare la versione col cofanetto e come per il precedente cofanetto abbiamo super mickey e mickey all star io mickey all star già lo possedevo ho preso solo la versione con super mickey per completare il cofanetto abbiamo qualcosa che non c'entra niente con i fumetti di stima abbiamo lego star wars con la minifigure di dartmole quindi l'ho voluto prendere per forza e poi abbiamo lego avengers questo è il numero 13 se non sbaglio esatto con la minifigure di war machine ragazzi lego avengers continua a collezionarlo anche se stanno facendo i furbi che fanno uscire sempre ormai le stesse minifigure io spero che facciano uscire un Hulk prima o poi invece ancora no e poi abbiamo le top stories ragazzi le serie imperdibili l'ultimo volume volume 4 spettacolare ragazzi da avere assolutamente per gli appassionati sia delle top stories manga delle storie più belle che la disney abbia mai fatto e questo volume ragazzi chiude le vicende delle top stories ma penso che prossimamente ne uscirà un altro dedicato alle ultime storie uscite su topolino forse aspettano che ne esca meno un'altra di storia perché ci sono tre storie per ogni per ogni volume quindi ne sono già uscite due su topolino aspetteranno che uscirà una terza e quindi faranno un altro volume di questo però è stato già anticipato che il prossimo volume delle delle serie imperdibili sarà dedicato ai racconti attorno al fuoco di nonna papera ragazzi quindi sarà da avere assolutamente e per finire abbiamo i volumi 22 23 scusate un po messi a cavolo 20 21 22 23 di della storia universale disney che sto che sto completando e quindi è una delle collezioni che più mi piacciono insomma perché oltre alle storie disney dedicate appunto ambientate un periodo storico abbiamo anche delle vite dei veri articoli riguardanti la storia c'era un altro in america e quindi ragazzi questi erano gli acquisti del mese di luglio fatemi sapere cosa ne pensate purtroppo avevo ordinato anche appunto papere in iceland come topolino extra che appunto ancora non mi arrivi quindi penso proprio di acquistarlo tramite il sito panini a questo punto perché veramente più di un mese non si sa che fine abbia fatto come anche il volume 7 conclusivo con il cofanetto a lui dedicato di mickey mouse mystery magazine dovrò acquistarli per forza sul sito bene ragazzi questo è tutto fatemi sapere cosa ne pensate scrivetemi qualcosina io vi saluto ci vediamo prossimo video ciao